Siamo così sicuri di conoscere esattamente il significato della parola sostenibilità. Questa parola che ci è molto nota, almeno nell'ascolto, perché la sentiamo nei dibattiti, la leggiamo sui giornali, la leggiamo persino, che ne so, sulla scatola dei biscotti quando facciamo colazione la mattina. Eppure questa parola non ha ancora un significato completo per quanto ci riguarda. Forse è necessario creare un festival. Davide Sannazzaro, buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto a Dieci di Dieci per raccontarci del festival della sostenibilità tra Cavalermaggiore e Fossano in provincia di Cuneo. Anzitutto, Davide Sannazzaro, sindaco di Cavalermaggiore, che cosa vuol dire sostenibilità? Sostenibilità per me e per il nostro gruppo di lavoro che ha creato questo festival e creare un'armonia e un rispetto fra la nostra terra e il nostro modo di vivere, il nostro modo di evitarla. Quindi creare il giusto equilibrio per poter dare un futuro alle nostre nuove generazioni. Nel declinare questo festival è stato molto faticoso soprattutto selezionare gli argomenti, perché sostenibilità ha tante sfaccettature. C'è la sostenibilità economica, c'è la sostenibilità dal punto di vista dell'energia, c'è la sostenibilità della natura, dell'agricoltura, del cibo che mangiamo. Quindi sostenibilità in verità ha tantissime sfaccettature, ma ci invita soprattutto a uno stile di vita e ha uno stile di come guardare il futuro tutti insieme. Come guardare il futuro tutti insieme è questo festival della sostenibilità della provincia di Cuneo, parte proprio da un elemento molto pratico, partendo nello stesso tempo da una storia molto bella che molti abbiamo letto, dall'uomo che piantava gli alberi, tenendo conto che la parola sostenibilità non è solo piantare gli alberi, sarebbe molto riduttivo, vero? Sì, noi tra l'altro l'abbiamo fatto, perché con il progetto Puntures ha dedicato due giornate di terra di propria proprietà, piantando mille alberi. E credo che questo libro abbia ispirato me, ma abbia ispirato un po' tutti. È un libro purtroppo poco conosciuto dalle nuove generazioni, nel senso che io ormai ho 45 anni ed è un libro che è stato punto di riferimento. Proprio per questo iniziamo il venerdì mattina invitando le scuole di Cava Maggiore a vedere il film che racconta questo libro, proprio per raccontare come ognuno di noi nel suo piccolo può fare un pezzo per cambiare il mondo, per dare futuro. Questo per me è molto importante. Anche noi abbiamo provato a farlo con questo progetto, piantando questi mille alberi. Quanti abitanti fa Cava Maggiore? 5.500. 5.500 abitanti, mille alberi, credo che sia una percentuale molto alta. Sì, in più ne abbiamo 1.300 in città da gestire, perché anche lì il rapporto tra l'equilibrio fra la città e la natura è molto interessante, visto dal punto di vista di Sindac. 1.300 in città, mille ne piantate, siamo 2.300, gli abitanti sono 3.000? 5.000. Sono 5.000, quindi uno sforzo per arrivare a ogni abitante di Cava Maggiore che abbia il suo albero. Questo ormai è un dovere, vero? Sì, in equilibrio anche lì, perché se poi questa cosa crea problematiche. Nello stesso tempo l'albero, con questo riscaldamento globale, credo delle temperature, crea ombra e crea un abbassamento delle temperature nelle case. Questa cosa viene poco presa in considerazione dai miei cittadini, però è un valore aggiunto. Tra Cavallermaggiore e Fossano, si svolge questo festival della sostenibilità, quindi l'attenzione sui due comuni è importante, anche se prevale quello di Cavallermaggiore, perché si comincia venerdì 19, poi sabato 20, spostandosi a Fossano, e poi domenica 21 si torna a Cavallermaggiore per chiudere questo festival. Vogliamo analizzare, Davide Sannazzaro, in breve quali sono i temi, già hai accennato poco fa, i temi di questo festival? Sicuramente partiamo con il tema degli alberi a cui abbiamo molto a cuore, quindi facciamo una riflessione sull'Amazzonia, l'Amazzonia che resiste, anche perché è collegato al tema dell'Amazzonia e alla riduzione di quello che è questa foresta importantissima per il nostro pianeta. in verità c'è collegato anche il tema del cibo, ci sono collegati anche tutta una serie di altri temi da questo punto in posto. Tra l'altro c'è anche Angela Mendez in collegamento della Fondazione Cico Mendez, quindi è molto interessante. Modera, Ivana Borsotto, che è di Progetto Mondo, che conosciamo tutti perché Fossanese, Fossanese e Saviglianese è uno dei riferimenti a livello nazionale delle ONG cattoliche, quindi un personaggio già lei molto molto importante. L'altro tempo è il cambiamento climatico, anche su come, cosa stanno facendo i comuni, come si attrazzano i comuni, da questo punto di vista. E qui l'incontro si intitola cambiamento climatico da vicino e da lontano, perché spesse volte si parla di quello che succede lontanamente e non ha presa, perché lo scioglimento di ghiacciai sull'Everest quasi che non ci interessa, e invece la mancanza di ghiaccio sul Monviso è più vicino a noi. Ma poi è collegata anche al tema delle migrazioni. La verità è che la siccità che noi adesso stiamo affrontando per la prima volta che ci ha aperto gli occhi sul tema della sostenibilità e dell'ecologia, anche in Piemonte, ha l'ha aperto a tutti in modo importante, negli altri paesi, soprattutto dell'Africa, il tema della siccità, dell'aumento del problema dell'acqua è un problema che crea migrazioni. E quindi molto del tema della migrazione, che poi è il tema politico, in verità, italiano in questo momento, ha delle radici importanti anche sul tema del cambiamento climatico. E sabato 20 maggio, quando ci sarà l'appuntamento a Fossano, la parola da capire, da comprendere, fare nostra, è la parola sete. Mi viene in mente un bellissimo verso della poetessa Emily Dickinson che diceva l'acqua e insegnata dalla sete. Sono parole molto belle e anche molto vere. Sì, tra l'altro il tema sete ha anche, per esempio, anche la provincia di Cuneo da poco ha fatto un accordo al Cotrà con la Francia, con la Liguria, sul tema della rigenerazione delle fonti e l'ha chiamato sete, questo progetto. Quindi è una parola molto utilizzata e che però ci dà l'idea di quello che è la prospettiva e di quello che sono le problematiche. Io vorrei chiedere, prego, molto interessante? Anche quello di Domenica, secondo me la cura del creato, la religione in dialogo, di nuovo ci dà uno spaccato di quello che il Papa con l'audato sì ha lanciato un messaggio secondo me molto generoso e fantastico, nel senso che ha portato a terra i problemi e ci ha resi edotti anche del fatto che anche la religione ha un ruolo importante. Eppure l'agenda 2030 dell'ONU non ha previsto il coinvolgimento di attori globali come le grandi tradizioni spirituali, un'esclusione che sicuramente non è giustificata. Sì, anche perché noi continuiamo a pensare che secondo me il tema è cosa mette al centro, se l'economia o veramente il cambiamento di stile e la consapevolezza dei cittadini e delle persone. Noi in verità sono partecipato all'ultimo incontro con Mercalli che diceva che saranno i filosofi a cambiare il mondo, non l'economia. E in effetti è così, nel senso che nei valori che noi portiamo avanti, nei punti di riferimento che noi abbiamo, e questo festival vuole anche essere questo, vuole lanciare dei messaggi in mezzo alla gente perché solamente cambiando il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, possiamo veramente portare dei cambiamenti concreti. Non saranno i soldi, non saranno le imposizioni delle leggi, ma saremo noi a cambiare le cose. proprio perché io credo che sia fondamentale questo. Nessun luogo è lontano come il titolo dell'incontro che chiuderà questo festival, ma io vorrei ancora in un minuto a disposizione che abbiamo ritornare sull'appuntamento di domenica 21 alle ore 10 la cura delle creatore di Rigioni in Dialogo a citare gli ospiti. Quali saranno? Saranno, beh, prima ci saranno le testimonianze di Garabiella Vaschetti del centro cicogne di Racconigi che racconterà come il cambiamento climatico muta anche le abitudini degli animali e questo è anche soprattutto la siccità. Poi ci sarà Guido Dotti, monaco della comunità di Bose, Kamel, la comunità islamica del Veneto e Orisier, la comunità ebraica del Piemonte. Quindi tre culture religiose che potranno darci uno spaccato e soprattutto lavorare su quelli non le differenze ma i temi comuni che possono portarci a lavorare insieme. Chiudiamo con la decima domanda qual è l'azione sostenibile che più ti piace realizzare ogni giorno? Ma il tema è proprio l'azione è un'azione proprio di cultura. Mi piace l'idea che il nostro consiglio comunale dei ragazzi abbia lavorato a un progetto sul reciclo della plastica per un progetto plastic free. Mi piace che la mia proloco che ha costruito una sagrada del gorgonzola che durata dieci giorni abbia fatto un lavoro plastic free comprando tutto materiale attento all'ecologia. Mi piace pensare che come sindaco tutte le volte che mi muovo cerco di dare dei che faccio delle scelte cerco di dare dei messaggi sul tema del rispetto della natura e della sostenibilità. Grazie ancora Davide Sannazzaro sindaco di Cavalera Maggiore per le parole che ci ha fatto ascoltare sul festival della sostenibilità della provincia di Cuneo. Buon lavoro. Grazie.